Poco tempo fa, un lettore del mio blog, leggendo i miei aggiornamenti che scrivo, ha richiesto una mia consulenza personalizzata presso il suo immobile. Ha deciso di scrivermi perché l'immobile recentemente strutturato presentava già delle problematiche. Dopo aver contattato varie figure, tra le quali dei venditori che proponevano prodotti edili miracolosi, non è stato convinto e per questo motivo ha deciso di contattarmi. Come prima cosa ho cercato di analizzare l'immobile dal punto di vista dell'epoca costruttiva, l'orientamento, che tipo di interventi sono stati fatti di recente nel 2016 e che materiali hanno utilizzato. I problemi che ho potuto subito avvisare sono nella parte alta dell'edificio, orientati a nord, dove questi problemi principali sono appunto la muffa, l'inverno è molto freddo e l'estate molto caldo. Ho fatto un'analisi con la termocamera, con delle immagini e ho potuto vedere quali erano le problematiche e così trovare anche le soluzioni per riuscire a garantire a questo lettore la risoluzione dei propri problemi. Principalmente le soluzioni proposte sono quelle di tornare con un cappotto all'esterno con un prodotto ad alta densità come la fibra di legno e all'interno sempre un prodotto ad alta densità come la fibra di legno con argilla, perché appunto è un materiale idroscopico che convive bene con gli ambienti umidi come può essere una camera da letto. Ora a lui darò un report della consulenza personalizzata e potrà dare questo mio report alla propria impresa che potrà fare i lavori con dei materiali e soluzioni progettate ad hoc per la sua situazione. Se anche tu vuoi una soluzione personalizzata iscrivimi pure sulla mia casa online che è nicolabretti.it Ciao e a presto al prossimo video!